L'esperienza del progetto Iris legato ai cambiamenti climatici per noi è stata molto interessante. Come Casberg Italia abbiamo affrontato i problemi che possono riguardare il bicchiere di birra, quindi qualcosa che vive nella nostra quotidianità. È stata sicuramente un'esperienza interessante perché ci ha permesso di capire come un qualcosa di cui si parla e si sente sui giornali, nei telegiornali, se invece qualcosa che non è lontano da noi ma ci riguarda direttamente. E quindi ci ha molto coinvolto il capire come i vari passaggi possono essere influenzati dai cambiamenti climatici. La cosa che mi preme sottolineare, che credo sia forse la più interessante di tutto il progetto, è l'aver alzato la soglia di attenzione dei colleghi, soprattutto chi magari è nelle vendite, che non si rende conto come il climate change non sia solo qualcosa di cui si parla alla COP21 di Parigi, ma è qualcosa che può toccare il nostro business quotidianamente.